Bello come si chiamano Farò chiusa oggi un po' Deve chiamare qualcuno? Ok Guarda quella bionda Però sembra che sta Come vi posso dire? Come se stesse cancellando qualche cosa Non so se avete notato dal rumore Come se lei stesse disegnando E intanto cancella Poi tante volte a questi dettagli Non ci fai caso subito Ci fai caso dopo Dopo che hai giocato una volta al gioco Dopo che hai letto un libro più di una volta Ci sono dei dettagli che te ne accorgi dopo Non mi so dire come mai Però a me succede spesso Ah è giusto Sì È vero Vai vai Dobbiamo portarglielo Ti pare? Scusate ma Ah mi fa vedere Ma nel collo oggi Ogni tanto vi faccio vedere il controllo Perché sembra che sto facendo qualcosa di brutto Ma in realtà sto giocando Vedete? So che ho il cavo attaccato Perché il controllo di PS4 senza cavo Non ho ancora trovato il modo di farlo andare Perfetto Si sta trasferendo Abbiamo capito da prima Che lei è segretamente innamorata di Carla Però giustamente Carla, sua moglie Glielo può dire E ora di partire E ora di partire E così Ah è andato via Ok Lei E i pacchettini Cosa no? È andato via Andato via Andato via Vediamo prima se Qualcosa da prendere No Ho lasciato lì Il pacchetto Il pacchetto Perché ci sono le foglie E ci volerebbe Quindi non ci passerebbe proprio Lo dico già io Se volete potete provarci Nel caso Nel caso Ci state giocando Ci volete giocare Fidatevi Ok Dopo devo metterlo lì Fatemi vedere se riusciamo a prendere qualche collezionabile Nel mentre Questo è chiuso di là Non so come 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 Questo momento Questo sparo Dicaci Non mi ricordo No Non ce n'è Se si è pure Il bambino Non so come Non so come Ovviamente Il trofeo Obiettivo Diciamo Osservare Penso Potremmo farlo anche con lei Solo che lei Non è contenta Di vederli Ok Ok Coverire Allora Lo sto voglio stancare parecchio Dunque no Però adesso Non posso prendere Dei suoi Quello è un vaso Niente Niente Devo rimanere indietro Ok 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 Allora Perché Mi state chiedendo Ho aperto Quella porta lì Questa qui A fare così Allora Non ci possiamo andare Quindi Dobbiamo passare di qua Adesso vi faccio vedere Vedere che se passiamo qui E scivola Questo lo dobbiamo mettere qua Questo servirà dopo Benvenuti nel tutorial Di come finire La strada Delle foglie Spariscono E si cazzo Il 100% Ok Questo per essere pignoli Perfetto Di qua è chiuso Non si può andare Niente Rimettiamo via Il rastrello Non ho salutato Nessuno Vediamo alla fine Quando rifaremo La scena Magari La farò salutare A tutti Sì Perché dovremmo Rifarlo Non ho lasciato Il pacco Ma Ah già Qua Adesso vi faccio vedere Una cosa Se io la faccio Andare dal nonnino Non è tanto Facciamo una saluta Di qua Se noi andiamo dal nonnino Adesso Ci dirà Vai giù Il nonnino ci dirà Sì 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 Vedete Adesso Sono un pochino Stanca Sto facendo Una cosa Di registrazione Però ce la posso fare Dove Non vuole Sì Non vuole È suo Quindi Madonna Spavento Ho messo la bottiglia E l'ho fatta così Madonna Perché ho tipo Due settimane enigmistiche qui Non ho un mese enigmistico La settimana Dove erano Alla metà di qua E quindi Non siamo Bello Dai Ci abbiamo così fatta Devo per forza Come fargliela concludere Che devo tornare dal pargolo Il secondo passaggio Del Del bambino Mi conviene farlo Quando avremo sbloccato Il cacciatore Perché adesso Da prendere I collezionabili Andarli a cercare Sarebbe abbastanza inutile Anche perché Ci sarà un via vai Di questa Cioè Però lei è il bambino Da risorci Dai Vediamo Sanno che Non li caccano Già Adesso I pacchi Quando arriveremo Alla parte Dall'interno Nel quarto quadro Non potrete più Se non ricordo male Prendere i collezionabili Quindi conviene farlo Oltre Il cacciatore Ok Niente Quindi Torniamo dal bimbo Se non volge L'unica cosa Non si può saltare Questi video qua Così Li faranno sempre E non ne posso Veramente più Di queste cose Dico Almeno Farmelo tagliare Tutta la parte Così Andiamo a mettere Sodo No Allora Devo fare così Ok Ok Qui si può vedere Che Abbiamo liberato La Quattro Ok Perfetto Abbiamo bisogno di quella corda lì Non c'è niente da fare Ok Ok Alla bene, non è solo scusato Sì, sì, non è solo scusato No, non lo concludo, ci serve la corda prima, anche perché sennò ce lo farebbe lì, ricomincia No, non lo vedo Grazie. I'm going to dedicarla Oh 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 Ok, non devi invitarla. E giù ne salva. Beh, avete capito che è un proseguirsi di fatti, non tanto belli perché appunto le pillolo, l'avete ormai capito. Giustamente si arrabbia, dice io sto facendo di tutto per salvare mia moglie e mia moglie ancora non sono riuscita a salvarla. Giustissimo come cosa. Ok. Passo dalla cucina perché mi piace di più, nel caso qualcuno se lo fosse chiesto. Ok. Perché si potrebbe passare anche dall'altro corridoio. Ok. Che caccia d'ora. Ok. 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 In salute e in malattia, quindi vuol dire che mi sa che l'abbiamo visti tutti. La sicurezza guarda in giro, che non vi so memoria, quindi non vi so dire se ce l'abbiamo fatta a far riflessione o no. Guardo di là e poi prendiamo la squadra. Ops, non vi dai per andare a prendere la squadra. Sì, sono sempre dissi.